La situazione del campo Rom di Arpinova è una situazione veramente devastata, tutto è abbandonato e quindi ci si poteva aspettare sicuramente anche questo evento che per fortuna non ha causato danni. In mezzo dell'Ataf e anche all'Ataf chiediamo una maggiore attenzione, non possono girare dei mezzi che potenzialmente possono essere così pericolosi. Noi stiamo denunciando il totale abbandono di quel campo dove i ratti camminano in pieno giorno e sono più comuni dei cani, dove da due anni denunciamo che c'è un palo della luce proprio alla fermata dove sono saliti quei bambini, che è pericolosamente inclinato, rischia di cadere da un momento all'altro, eppure quel palo non viene sostituito. Quindi verrà sostituito solo quando cadrà in testa qualcuno, qualcuno di questi bambini che sale sul bus per andare a scuola.